1995 ai referendum sulla tv vota no no alla riduzione dei film in tv perché vietare le interruzioni nei film significa impoverire la programmazione di tutte le televisioni private che vivendo di pubblicità saranno costrette a ridurre drasticamente il numero dei film quindi meno pubblicità meno film per questo se non vuoi perdere la tua televisione vota no che bella settimana ci aspetta tutti amiche amiche benvenuti a tutti perché parliamo della bontà delle merendine ferrero e kinder che piacciono a tutta la famiglia e sì perché piacciono ai bambini ai più grandi agli adulti perché sono fatte apposta in qualsiasi momento della giornata potete mangiarne che sono fatte con ingredienti naturali semplici controllati ecco perché sono così buone e così nutrienti beh ferrero e kinder ha pensato anche a una grande offerta per tutti voi quella di riceverle a casa con una semplice telefonata nel cesto della qualità e sì perché ferrero e kinder vuol dire qualità e allora telefonate perché le prime 50 entro un'ora riceveranno a 25 mila lire il cesto della qualità con tante merendine ferrero e kinder e oggi è venuta a trovarmi a ritrovarmi un'amica carissima si chiama vera e lei di merendine buone se l'intende ciao ciao la raccolta dei punti regalissimi continua e come noi regalissimi frere kinder regalissimi bellissimi come no se continua però prima raccontami di federico come la scuola guarda benissimo proprio ieri è riuscito per la prima volta a fare il dettato senza neanche un errore che bravo e questa mattina ha avuto il colloquio con la maestra che mi ha detto che è contentissima anzi mi ha detto che federico è sempre attento riesce ad arrivare alla fine della della lezione come come quando è arrivato mentre i suoi compagni a un certo punto si distraggono e non riescono più a seguire gli ho detto che sicuramente è merito di kinder brioche facendo merenda con kinder brioche riacquista l'energia per continuare come fosse il primo minuto di lezione e io ci credo è io guarda mi fido di kinder brioche è una merendina lievitata naturalmente poi c'è il latte che gli dà tante proteine è come no tanto nutrimento e questa è una cosa giusta quella che ha detto vera io l'ho sentita dire da tante mamme perché tutte si fidano di ferrare kinder perché sanno che in ogni merendina gli ingredienti sono proprio naturali semplici e soprattutto sono controllati ecco perché poi nascono queste buonissime merendine buone per tutti e poi avete visto federico che energia che ha scusa se insisto ma i regalissimi perché io ho terminato la prima raccolta e sto per terminare la seconda e hai ragione i regalissimi fanno gola davvero a tutti perché sono molto belli e molti stanno continuando la raccolta dei punti per avere per esempio le t shirt e le felpe le music shirt e le music look che sono bellissime coloratissime e poi anche la linea per la casa guardate che belli utensili per la casa studiati proprio con degli elementi particolari guardate guardate sono bellissimi io fanno una gran figura con la prima raccolta ho ricevuto l'oliera guzzini e guarda è bellissima lei già ricevuta messa in tavola fa un figurone io la metto ogni giorno e ogni giorno sembra un giorno di festa ci credo e allora anche voi volete a casa i regalissimi 95 e volete la bontà delle merendine ferrari kinder ecco a disposizione la grande offerta di oggi quindi telefonate e avrete a casa un bel po di merendine per tutta la famiglia e vediamo nel dettaglio poi parliamo continuiamo continuiamo i primi 50 che telefoneranno entro un'ora al numero che vedrete tra poco in sovraimpressione riceveranno il cesto della qualità a 25 mila lire nel cesto della qualità trovate due confezioni di kinder brioche due confezioni di kinder colazione più due confezioni di kinder delisse due confezioni di brioche frutta e cereali al gusto di albicocca e ciliegia e due confezioni di fiesta avete visto che offerta vabbè noi continuiamo domani sempre conferere kinder ciao a tutti ma tu non c'è cristina quella di ferrarelle si chiudo dove l'hai lasciato ma lei poi si è fidanzato con cristina ma no proprio non è mio dio come fa ferrare l'essere così buona ma secondo me un miracolo ve lo spiego io l'acqua filtrata dalle rocce vulcaniche di rocca monfina prende la sua effervescenza naturale e diventa una ferrarelle ferrarelle l'unica così io io vivo con il mio tempo il progresso per rivelare una nuova pelle ho scoperto plenitide excel a 3 al triplo acido di frutti innovazione dell'oreal il triplo acido di frutti elimina le cellule spente e rivela una pelle rinnovata il complesso antiradicali liberi combatte l'invecchiamento il suo filtro protegge dei raggi uv excel a 3 un risultato dimostrato una pelle più liscia fino al 54 per cento più luminosa fino al 71 per cento mai la mia pelle è stata così giovane nuova plenitide excel a 3 dell'oreal ritarda gli effetti dell'invecchiamento ma c'è la cremeria salite c'è un gelato cremoso dal sapore squisito con pezzi di frutta ma c'è anche al cioccolato con nocciole fragranti ogni gusto è puro e cremoso e la cremeria una morbida e ricca cremosità per un nuovo piacere la cremeria il piacere è cremoso profumoso no strabilioso lucicoso belloso favoloso fabuloso il detergente profumante ugo e sergio sono gemelli stessi capelli stessi occhi stesso naso i loro nasi sono diversi per rinogut perché perché ugo è raffreddato mentre sergio è allergico per ugo è più indicato rinogut spray per sergio c'è rinogut antiallergico specifico per allergie rinogut agisce presto e libera il naso per 6 8 ore rinogut spray e rinogut antiallergico le soluzioni naso per naso è un medicinale evitare l'uso prolungato leggere attentamente il foglio illustrativo non somministrare ai bambini al di sotto dei sei anni ho scelto è candy la tranquillità è di casa tristana cerulli studentessa pesa 66 kg per tre settimane il suo pasto di mezzogiorno sarà due barrette al cioccolato di peso forma allora cerulli dopo tre settimane come andava peso forma è buonissimo sa di cioccolato mi piace e anche le mie amiche lo tengo nello zainetto e sono rientrata nei miei mitici jeans alla sera mangio un po di tutto come da piano peso forma ce la farà il peso è 59 ha perso 7 kg stupendo peso forma per di peso e resti in forma il nuovo yogurt magro danone vita snella ha tutta la vitalità dello yogurt e tanta frutta in più ma solo lo 0,1 per cento di grassi danone vita snella magri che un piacere di orsbelt un processo anticellulite senza precedenti risultati spettacolari di orsbelt la rivoluzione anticellulite qualche mamma dice che ci sono tante merendine più o meno come kinder brioche basta rinunciare alle proteine del latte a un pan di spagna soffice a un nutrimento fidato insomma a kinder brioche forse potrei risparmiare ma perché togliere a mio figlio un pan di spagna lievitato naturalmente una doppia farcitura con buon latte un nutrimento importante per i ragazzi garantito da kinder no io non rinuncio alla qualità io mi fido di kinder brioche basta di bello passione mediterranea presente ciao 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 di tutti i colori basta che sia strano amore domenica 20 e 30 canale 5 Grazie per la visione!